Il CS in particolare è una organizzazione non governativa, nasce nel 1983 e si occupa di diversi ambiti. Innanzitutto abbiamo il settore della mediazione linguistico-culturale, il settore della cooperazione internazionale e del cosviluppo, il settore comunicazione e anche il settore di cui faccio parte, educazione e formazione. Nel nostro settore in particolare ci occupiamo di lavorare da un lato con le scuole, quindi con un sistema di educazione formale, dall'altro di attivare energie sul territorio e quindi di lavorare nel contesto dell'educazione non formale. Sul territorio Esquilino ormai da diversi anni, quasi dieci, festeggiamo dieci anni, del nostro centro scuola d'arte, centro giovanile Matemù. Matemù è un centro dove ragazzi e ragazze vengono da qualsiasi provenienza, sia di qualsiasi origine, nel senso da diverse nazioni e anche da diverse parti della città. È un luogo dove i ragazzi trovano la possibilità di innanzitutto divertirsi, quindi di stare insieme e di trovare opportunità di crescita, opportunità di tipo educativo, di tipo formativo, di tipo educativo. Quindi noi crediamo molto nell'arte e nell'educazione come ambiti che possono attivare processi di cambiamento e di empowerment e quindi abbiamo attività artistiche, quali il sax, la chitarra, non voglio dimenticare nulla, abbiamo il canto, la musica, la batteria, poi facciamo percorsi di L2, quindi di insegnamento della lingua italiana agli stranieri e il doposcuola. Abbiamo anche uno spazio di ascolto perché molto spesso i ragazzi hanno bisogno di un sostegno anche di tipo psicologico e vengono però agganciati sempre informalmente, quindi quello che è importante dire di questo centro è che è un centro dove molte attività sono destrutturate, a parte i laboratori, ho dimenticato prima di dire quello teatrale che da origine ogni anno ha degli spettacoli meravigliosi, ce ne abbiamo addirittura due di percorsi teatrali e dicevo appunto attività di tipo informale che agganciano i ragazzi e li fanno sentire al loro agio. Per noi una scommessa è quella di unire competenze formali e non formali, quindi di aprire la scuola al territorio, e aprire una possibilità di sinergia e di collegamento tra la scuola e il nostro centro. L'ambizione più grande prima di salutarvi per noi è quella di creare tanti centri. Il progetto DORS ci dà l'occasione di sperimentare un modello educativo di inclusione sociale insieme ad altri colleghi addetti ai lavori ed insieme di realizzare questo sogno di allargare questo modello di inclusione sociale.